No Sì E' questo, bello eh? Bello, molto bello Wow, wow Questo lo farsi, vai Grazie, buongiorno Sì, ma rallenta di più Buongiorno Quando c'è la gente però rallenta Buongiorno Buongiorno Quando c'è la gente rallenta, rallenta con la gente, rallenta Non li spaventare Non li spaventare Buongiorno 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 Sì Vai, vai Capito? Non spaventare la gente Sì Grazie, buongiorno Buongiorno È giusto Grazie Cazzo Hai fatto il gas lì eh? Sì Che ne hai dato eh di gas lì Occhio se gente Buongiorno Buongiorno Oh Oh gli avambracci Ma è morti sì Ripassiamoci un po' Vai tanto